È veramente bello vedere tutti quanti i ragazzi che devono ancora partire con gli occhi pieni di gioia e felicità e anche con un sacco di speranze e aspettative che si stanno creando. Da questa esperienza mi aspetto una crescita personale e comunque dei bei ricordi che mi rimarranno. Imparare cose nuove e conoscere un nuovo mondo, vivere in una nuova realtà. È superare i propri limiti e uscire dalla propria comfort zone. Sicuramente mi aspetto di imparare una nuova lingua e anche di imparare una nuova cultura e delle nuove abitudini. Ho scelto di fare questa esperienza perché voglio vivere un anno indipendente, voglio migliorare dal punto di vista della lingua e mi piacerebbe poter giocare a basket anche in America per migliorare sotto quel punto di vista. E sicuramente molta più indipendenza, padronanza nella lingua, esternare più me stesse e diventare molto più estroversa. Mi aspetto di crescere a livello personale, di fare molte esperienze e di raggiungere i miei obiettivi.